ma non è tutto serio però e qui si lavora ecco qui il nostro Harry Potter dai Harry Potter fai un saluto mi presento Giovanni Antonino ah qui si qui lavoriamo oh sangue cuccia oh bedda ciao Mary ciao Vito che state a fare? leggo le prove Vito c'è già qualcuno in pigiama Giovanni aspetta che ti voglio fare un primo piano con le scarpette nuove aspetta guarda guarda Tommy guarda Tommy guarda Tommy er guerriero caccia dei cinghiali è il guerriero a caccia dei cinghiali carlo